16 nuovi bus a basso impatto ambientale sono stati presentati questa mattina in Piazza Cavalli dalla società di trasporto Seta. Con questi l'età media della flotta aziendale di Piacenza, la più alta in regione, composta da 214 mezzi, scende da 14 a 12 anni allineandosi così alla media aziendale regionale. L'investimento complessivo è di oltre 3 milioni di euro ed è stato sostenuto da Seta con un contributo della regione. Oggi con i 3 che abbiamo portato qui un mese fa abbiamo circa 19 mezzi, di cui sono 10 usati ma gli altri 9 nuovi. Gli usati che sono in buonissimo stato sono stati acquistati quindi in autofinanziamento da parte dell'azienda, quindi è un costo sostenuto direttamente da azienda. Per gli altri abbiamo un contributo da parte della regione, sostituiremo quelli più obsoleti, quelli che creavano notevoli problemi, sono apparsi anche sulla stampa, quindi avevamo dei costi estremamente alti di manutenzione e crediamo con questo investimento di aver risolto una parte di problemi, certamente non tutti, ma di dare anche un servizio qualitativamente migliore per l'utenza. Sono tutti mezzi Euro 5 di ultima generazione con tutti i comfort, aria condizionata e quindi speriamo che i cittadini siano soddisfatti.